Con le modalità scheline, per conto di vedere, una persona che correva dietro a mia nipote, lei che correva dietro al gatto, perché non ci sono mai stata io. E' bellissimo camminare, l'odore di ginestra, profumo della ginestra. Ginestra, ma forse invece sai che questo è anche l'elitriso, 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 ma prima lì, poi c'è anche l'elitriso.